Veltama, 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 Veltama i'one, vi han scelito i'one e i'one. Veltama, 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 Veltama i'one, vi han scelito i'one e i'one. Veltama i'one, vi han scelito i'one, vi han scelito i'one, vi han scelito i'one e i'one. Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 E' un po' dell'ımda che fa da lì? Mi sono già! No. Ok, Buona. E' un po' di più. Io parlo qui all'imbarco. Ci sono qui. Adesso si è avessi di prestità. No. È un po' di più. Ci sono anche delle soldi non solle. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.